Che è l'uomo e la sua umanità che deve andare avanti. I nostri ragazzi siamo in una società troppo individualista, ok? L'individualismo porta ad un'indifferenza sociale. Cosa significa? Che se io vedo qualcuno che sta male per strada, io sto bene, vado oltre, chissà che cos'è che ha, non mi avvicino, devo chiamare ora l'autobolanza, poi mi devo fermare, magari poi mi chiedono i miei dati, poi io vado di fretta e robe varie. Non va bene, non va bene. Ecco che va umanizzato il tutto, va umanizzata anche l'educazione digitale, ecco perché educazione civica, la piattaforma, che se non va errando, sto cercando più volte, ma secondo me, vediamo un attimo se lo trovo. Guarda Maria, non ti preoccupare, perché tanto poi metterò tutti i riferimenti nella descrizione, quindi con tutti i link e così via. Il sillabo, sì, avevo ragione, il sillabo. Ok, ok, va bene, ok. E ora faranno qualcosa di analogo e stanno preparando qualcosa di analogo anche per le scuole primarie, quindi per i più piccoli. Ok, va bene. Bello, molto bello. Guarda Maria, ti ringrazio tantissimo, e poi ecco, avrò cura, poi te lo chiedo, te li chiederò, quindi mi passerai tutti i riferimenti da inserire poi nella descrizione, ok, così le persone sapranno raggiungere te, raggiungere il tuo progetto, anche questo il sillabo e così via. Lo trovano tranquillamente anche su internet, c'è di tutto. L'unica cosa, ecco, io penso che se noi ci atteniamo, ripeto nuovamente, a quella frase lì, che bisogna dimostrarla la responsabilità, io non ti posso richiamare perché non ti sei comportato bene quando tu francamente da professionista o da altro hai dimostrato altro. Se noi e i nostri ragazzi ci teniamo, è un investimento sul futuro, sulla società, è importante lavorare bene prima e soprattutto lavorare con le famiglie, perché se le famiglie si rendono conto che tu ci tieni i loro figli, che ti fai in quattro, e credimi che di insegnanti, io ne ho viste tante, tante, addirittura ho visto anche insegnanti che con i loro soldini andavano a comprare del materiale, l'ho visto io, per fare dei lavoretti e robe varie. Questo per dirti cosa, che se le famiglie si rendono conto che la scuola insieme alle famiglie sono un tutt'uno, un'alleanza vera e propria per aiutarli a farli crescere in un certo modo sicuri, ma io sono convinta al cento per cento che insomma le cose si vedono, sono palesi, sono palesi. Certo, sì, sì. Ci sono palesi.